Domenica 23 settembre a Villa Bernocchia, Premeno, andrà in scena la quinta edizione di Saperi e Sapori, evento organizzato dall'Associazione Germoglio di Raffaella Pepe con il supporto dei comuni di Verbania, Rizzano, Premeno e Vignone. Durante la giornata ci sarà la possibilità di assistere e partecipare a conferenze e workshop, laboratori per ragazzi e mercatini. L'evento si svolgerà il 23 settembre, questa domenica, iniziamo intorno alle 10.30-11 per poi finire in serata. Uno degli eventi più importanti sicuramente in mattinata ci sarà Pallante, che è il presidente onorario del Movimento per la Decrescita Felice e durante tutta la giornata ci sono tantissime cose belle da fare e da vedere. Quindi ci saranno altre conferenze, si parlerà di comunità arcobaleno, si parlerà dell'importanza terapeutica degli orti, tanto buon cibo con polenta e piatti etnici, musica bellissima, ci saranno i guachichi e i quadrat e laboratori tutto il giorno, laboratori per bambini. Inoltre gli adulti potranno sperimentare diverse pratiche per il benessere, dallo yoga al pilates. E una novità, quest'anno impareremo a fare la plastica con le bucce di banana. Quanto è importante questa collaborazione per il comune di Arizzano? Direi che è importantissima perché nel corso degli anni, a parte questa manifestazione, coinvolge i bambini della scuola che si fanno il piccolo orto, addirittura la scuola dell'infanzia. E poi è una manifestazione che coinvolge un po' tutta la collina ed è una manifestazione completa perché c'è di tutto, dalle cose serie alle cose divertenti. Una giornata per capire come si può vivere meglio, per divertirsi, per acquistare mercatini e tutto quanto, a partire dai bambini fino agli adulti. Quindi direi una giornata totalmente completa. Grazie. 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 Grazie.